4, 2, 2, RACE! Ingegner Giorgio Beghella Bartoli, responsabile del Gran Premio d'Italia ormai da 20 anni. Una polemica che è nata proprio ultimamente tra il sindaco di Monza, Marco Mariani, e questo discorso della possibilità di contenere entro il 2015 e quant'altro con il Gran Premio d'Italia, cosa che voi avete a garanzia, vorreste prolungarla, in parte in buona sostanza si dice questa cosa, ma in realtà vorrei capire meglio, anzi i nostri amici anche a casa vorrebbero capire meglio, quanto c'è di questa polemica tra autodromo e organizzazione Flamini Corse in particolare. Ma no, non ci sono affatto polemiche. Maurizio Flamini collabora con noi perché ha una sua struttura che organizza il Superbike da tantissimi anni, la facciamo qua a Monza, c'è la gara delle Superstar che organizza già da qualche anno, che viene lo stesso organizzato a Monza. Certo abbiamo dei dissenzi tecnici, come pure il sindaco di Monza, non è che si è in guerra o polemizzi col sindaco alemanno, sindaco di Roma, ma è soltanto fatto tecnico. Allora, stabilito che il Gran Premio d'Italia, come ha detto l'Automobile Club d'Italia, il suo presidente Enrico Gelpi, come hanno detto tutti Bernie Eccleston, eccetera, tutti quanti, il Gran Premio d'Italia resta a Monza e noi abbiamo siglato e firmato il contratto con Eccleston che ci garantisce questo. Al di là di questo il problema è un fatto puramente tecnico. E cioè, possono due Gran Premi coesistere economicamente in una situazione economica che purtroppo non è fra le migliori in questi anni, né lo sarà per i prossimi anni? Beh, prima c'era Imola, certamente, però non dimentichiamo che Imola è fallita. Non dimentichiamo che in quell'epoca, pur essendo difficile trovare delle aziende che investissero negli autodromi, era comunque possibile. Oggi non è più così. Quindi, pensare a due Gran Premi nella stessa nazione, fatti magari anche a poco tempo uno dall'altro, cioè nel calendario annuale, beh, certamente non ci vede d'accordo, ma non è una polemica. Maurizio Flammini resta sempre un nostro amico. Ma noi gli auguriamo un grandissimo successo con le Superstar, gli auguriamo un ancora più grande successo con il Superbike, preferiremmo che non si occupasse di Formula 1 in questi anni. Più avanti vedremo, per carità. Ma stante questa situazione economica, è impensabile di riuscire a stare in piedi con due Gran Premi nella stessa nazione. Questo è capitato e c'è in Spagna, può dire qualcuno, sì, ma adesso i conti sono in rosso anche per Barcellona, oltre che per Valencia. Perché non riesci a reggerti. Là poi ci sono dei governi che intervengono, governi anche regionali. Qui l'autodromo di Monza non ha mai chiesto soldi pubblici. Tutto ciò che abbiamo fatto, l'abbiamo fatto a spese dell'autodromo ed eventualmente con le garanzie date dall'Automobile Club di Milano, ma garanzie proprie degli edifici di cui è proprietario l'Automobile Club di Milano. Nessun ente pubblico ha tirato fuori soldi per farci fare il Gran Premio, né per adeguare il circuito. Oggi come oggi, dalle altre parti, tutte le altre nazioni, c'è uno Stato che paga. Allora se si vuole fare due Gran Premi e poi c'è il governo, cioè tutti noi che contribuiamo con le nostre tasse, per carità, a noi basta che ci sia qualcuno che ci copre le probabili perdite. Poi noi cerchiamo di gestire l'autodromo al meglio, differenziando le attività e facendo tutto ciò che serve per tenere in piedi questa società sana. Infatti credo che sarà proposto al Consiglio di Amministrazione fra pochissimi giorni un bilancio che comunque, pur in questo anno difficilissimo, chiude in attivo, anche se di poco, ma chiude in attivo. Perciò mettere in difficoltà delle società che non hanno chiesto nulla al denaro pubblico, nulla al governo per poter stare in piedi e far fare delle iniziative che per quanto possano essere interessanti da un punto di vista mediatico, perché chiaramente un Gran Premio a Roma può essere secondo soltanto al Gran Premio a Venezia, perché certamente sarebbe anche più affascinante un Gran Premio a Venezia, però al di là dei ritorni dei media certamente sarebbe un grosso problema per tutti e due, a fronte poi di numeri, di indotti che dovrebbero piovere sul territorio, ricadute sul territorio, che sono sicuramente da valutare con estrema attenzione. Grazie quindi e buon lavoro a tutto l'autodromo in mozza, in particolare all'ingegner Giorgio Beghella Bartoli, che gentilmente si è prestato a questa intervista. 4, 2, 2, RACE!